Fede, vedi ciò che ho in mano? Sì, che lo vedo! Oggi dobbiamo gareggiare, sei preoccupata? È un pochino, penso che sia difficile guidare le macchine da forza, no? Infatti, infatti, vero? Secondo me è abbastanza complicato, soprattutto su Minecraft. E l'assistente per di più ci ha preparato una pista che sembra un po' pericolosa, diciamo che non sembra proprio... Eh sì, sembra parecchio scivolosa, sinceramente. Esatto, esatto, esatto. In ogni caso, fai, noi ci proviamo, gareggiamo, abbiamo quattro macchine diverse, Piano piano andiamo alle macchine sempre più belle, sempre più veloci. Ovviamente vincerà chi vince più gare, Fede, e sapremo che vinco io perché tu ti schienterai su una curva. Io la pista, devo anche vederla bene. La vuoi fare una volta a piedi e poi partiamo con la gara? Sì, allora da qui si parte. Si parte da qui, si corre così, qui bisogna stare attenti a quest'acqua, poi bisogna salire. Addirittura! Sì, sì, Fede ha messo un sacco di trappole, qua abbiamo il fuoco da schivare. E qui la parte interessante, se tu fai la curva stretta, guarda, Premi i bottoni e ti si alzano le colonne. E quindi devi riuscire a fare la curva larga per evitare quello. Saltare questo buco, non cadere in acqua, scendere giù e di nuovo schivare i vari bottoni. Ma dove si va qui? Perché guarda che c'è un'altra strada. Secondo me è una trappola. No, no, vedi, guarda, ti fa fare tutto il giro. È una trappola questa, se ti confondi, fai, guarda che gira inutile. Eh sì, si allunghi solo la corsa. Esattamente, quindi qua devi rischivare perché altrimenti ti si rialzano dei blocchi. Ma è bellissima questa roba. E sarebbe un problema, e qui finisce il giro. Ok, perfetto. Allora, piazziamo la nostra macchina, non so manco come si fa, ma credo... Oh mio Dio, che figa! Stef, la mia è storta. Fede, l'hai un po' rotta? Come faccio? L'hai un po' rotta? Prego, ti prego. Allora, come si mette il carburante? Io ignoro Fede. Ma, ma... Ok, Fuel. Scusa un attimo, Stef. Cioè, c'ho il lettore DVD con un film mio in questa macchina. Davvero? Cioè, guarda, più o meno film, è proprio delle immagini. Ok, devi tipo fare destro. Non tre, neanche parte. E Fai R, Fai R e Premi Fuel. Ok. E lì devi mettere un serbatoio, serbatoio. Ok? Perché altrimenti... Oh mio Dio, ma ci sono anche missili e fucili, vabbè, però per fortuna non ce li abbiamo. Aspetta, aspetta, Stef. Il problema è che io sono sempre... Non puoi toglierla. Ok, ce l'hai fatta. Ce l'ho fatta? Sì. Ok. Sì, ma sei pronta? Sì, ma aspetta che devo frenare. Ti consiglio di guidare in F5. Secondo me è più comodo. Dici? Sì. Non lo so. Ok, vai. Pronta? Sì. 3, 2, 1, via. Ok. Devo tamponare, Stef, e superarlo. Stef. Ok, abbiamo poco hitbox, è strano. Oh mio Dio. Stef. Ok. Il problema è che queste macchine sono giganti. Io me le aspettavo un po' più piccole. Sono leggermente in vantaggio. Oh yes. Mi sono appena schiantata. Ferre, non mi tamponare là dietro. Ahia, sto bruciando. No, pure io. Ok, devo schivare questi blocchi. Oh mio Dio. Stavo per finire fuori dalla pista, Stef. Io te lo dico. Ok, se vado a largo, secondo me... No. Io li prendo tutti e ti supero. Ti supero. Vinco. Ho vinto. Non ci credo. Vai avanti, vai avanti. Facciamo due giri. Ok. Ma perché stiamo bruciando entrambi? Però cavolo, Stef, mi hai intrippato. Io avevo rallentato lì, capisci? Avevo rallentato, quindi adesso ho perso un po' di... Qualcuno mi spenga la macchina. Potrebbe esplodere. È una bella macchina che... Se esplode, Stef, ti uccido, eh. Non voglio esplodere. No, vabbè, è difficilissimo da schivare il fuoco. Lo so. No, non farmi finire fuori dalla pista. E ci sta provando. Vai via. Ok. Vattene, Stef. Non mi puoi superare. Io le prendo tutte. Ma non è possibile. Non vale, Fere. E ce l'ha fatta. Ha vinto. Ha vinto. Ha vinto. Ha vinto. Con Salini. Non riesco a frenare. Aiutatemi. Ha vinto. Allora, si esce con control. E poi basta premere sinistra e la togli. Vai, Fere, con qualche problema ogni volta. Ok. Macchina numero due. La Mercedes. Io inizio a piazzarla. Oh. Sono proprio belle. Sono proprio belle queste macchine. Molto belle. Che figata. Ok, allora, quindi. Vabbè, ma. Dentro. Ce lo faccio apposta, Stefano. Spera, ma che problemi c'hai? Lo faccio apposta, allora. E poi perché la tua è blu? E poi perché sei nel passeggero? Aspetta. Ce la faccio. Io non ci credo che sto pure perdendo contro questa qui, eh. Ok, sono davanti. Sì. Ricordati di mettere il carburante, altrimenti poi non puoi partire. Aspetta, non mi ricordo come... Era R? Fuel? Brava. Ma le devo mettere otto? Che brava ragazza. O ne basta uno? No, ne basta uno. E io li stavo mettendo tutti e otto. No, basta che fai... Esatto, esatto. Hai quattro, ne ho messo. Easy. Allora, dimmi quando sei pronta. Avanza leggermente che sia un po' indietro. Sì, mi devo posizionare. Aspetta, mi devo anche cambiare la visuale. Buone mentre va dritta, non ci credo. Aspetta, aspetta, aspetta. Torna indietro. Ok. Stef, si scivola. Aspetta. Fermi, fermi tutti. Ce la faccio. 3, 2, 1, perché non ti sopporto più via. La mia è blu, la tua è nera, carina. Però è bella, la mia è l'interno in rosso. Va decisamente più veloce, vero? Ti scavalco. Sì, è molto più veloce. Sì, 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 è molto più veloce. Ok. Ok, per ora sono in vantaggio. Curva stretta di Stef, perfetto. Fermi, ogni volta mi supera qua e non capisco niente come. Cioè, ogni volta io faccio le cose giuste e Fermi mi supera. E non capisco perché. Ok. Ok. Primo giro fatto. C'è il secondo giro, eh. Ok. Siamo un po' bagazzi. Non è bella sta roba? Lo so. Ci andiamo a bruciare? Lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so. Mi sa che ci serviva una pista un po' più larga comunque perché siamo davvero enormi. Io sinceramente non mi aspettavo che le macchine serebbero state così grandi. Me le immaginavo un po' più a misura di player. Ho ragione. No. Mi hai trippato, Stef. Mi hai incastrato. Lo so. Aia, aia. Dai che ce l'ha fatto. Vabbè, questa te la sei vinta tu. Una pari. Non mi piace da guidare, mi piaceva più l'altra, quindi... Ma, solo perché Stefano è stato meglio. Solo per questo motivo. Allora, scendiamo. Allora, aspetta. Comunque sono una figata. Cioè, guardatela così. Aiuto, Stef. È troppo figo. Fede, che cavolo stai a fa? Ma perché hai sempre problemi con tutto? Oh, Stef, io! Fede? Sono le mod, non io! È il momento. Che vuoi? Abbiamo la Lamborghini. Ah, sì, bella. Che la vedremo solo su Minecraft, una Lamborghini. Ma è ancora più grande? Oh, no. Oh, no, non ci stiamo. Ed è totalmente di quelle sportive. Ovviamente. La tua è il tetuccio, la mia no. Che bella che... Vuoi vedere? Che bella. Sto mettendo il carburante. Guardatela anche dentro. Bellissima, questa ci sta. Ma la volevo io ed è capotabile, non è giusto. Carburante. A me piace di più chiusa, ti dirò. No, a me piace di più aperta. Ok. Siamo pronti? Eh... Non ci stiamo, eh. Lo so. Tu sei già boom, boom, boom. Mi hai fatto la musica? No, però non l'ho messa. Stai ballando? Aspetta che mi sistemo. Aia! Ho peggiorato? Ho notato. Anche perché sembra molto veloce. Cavolo, non sta fermo. Si scivola un po' Te ne ghiaccio. Ci siamo? No, aspetta, aspetta. Stef, non ce la faccio. Ci siamo? No, guarda. C'è che mi sta succedendo, Stef. Succede che siamo troppo grandi. Pronta? Dai, partiamo a caso. Vai, 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 vai. È davvero penosa. Ma molto. Oh mio Dio, siamo molto veloci. Doveva essere una gara serie, invece è una gara ridicola, Stef. Lo so. Ma che cavolo. Lo so. E poi siamo velocissimi. Wow. Ok. Qua dobbiamo fare minimo tre giri, eh. Perché siamo troppo veloci. Sì, sì. Ok. Cavolo, ma le prendo tutte le trappole. Sono impossibili da schivare, Stef. Sono impossibili. Perfetto. Ok, dietro di me. Pensavo di averla seminata, invece è qua dietro. Ma chi vuoi seminare? Ah, il fuoco ormai non me frega nulla. Tanto bruciare per bruciare, lo prendo in pieno. Oh no. Che mi è successo? Io rischiazzi fredda questa coda. Che è successo? Fede, dove è? Non ho capito cosa mi è successo. Sì, è andata in mezzo al prato. Praticamente mi è cambiata la visuale e non vedevo più dove andavo. Ma senza motivo. Sei uscita fuori dalla pista. Senza motivo. E mi è cambiata. Non lo vedevo. Che vandala. Ma come si va in quel punto della pista? Ho notato che c'è un punto particolare della pista. Dove? Che non ho mai raggiunto. Dove? È lì che flutua. No, io continuo. Ho notato, Fede. Hai problemi strani. Mi si cambia la visuale, quindi non vedo più dove vado. A te non lo fa. No. No, no, io sono tranquillo. Non riesco a frenare. Con la Lamborghini. Ho già fatto 4 giri. Non riesco a frenare. Dove vai? Aspetta, voglio andare anch'io lì sopra. Come ci si va? No, non ci si può andare. Mi dispiace. Togliti. Calmati con quell'auto che non è possibile. No, no, Stef. Aiuto. Eh, sì, aiuto. È unstoppable quest'auto. Sì, è un unstoppable, un unstoppable. Non riesco a fermare. Fermati, frena. Che noioso. Io? Sì. Io? Ok. Via Lamborghini. Via Lamborghini. Non ti vogliamo più. Tanto bella quanto scomoda da guidare, guarda. Già, già. Come nella realtà, secondo me. Ma chi l'ha mai guidato? Eh, ma dico, secondo me non deve essere facile. No, penso siano belle da guidare. Cioè, se la gente ci spende tutti quei soldi vuol dire che sono belle. Veloce, ma secondo me anche tosta. Capisci? Cioè, se sei in città, secondo me è scomoda. Beh, sono corno. Allora. L'Audi manca? Sì. Ok. Che è decapotabile, spero, anche per te. Aspetta. Sì. È più bella, blu. Ah, è più bella. Uffa. Stavolta è più bella a me. È possibile. Allora, carburante. Ok. Che bella dentro. Allora. Perchè non puoi prendere il carburante? Carburante. Ok. Perfetto. Ok. Dopo che finiamo questa gara. Ok. Che vuoi. Qua ci giochiamo il 2-2 comunque. Dopo che finiamo questa gara ti faccio vedere un veicolo che ti piaccia di più. Ok. Andiamo. 3, 2, 1. Vabbè, è già partita. Via, 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 via. Ok. Ma non hai speranze, Ferro? Ormai ho capito. Cosa hai capito? Come fare le curve. Io l'ho capito meglio di te. Faccio le curve, vedi? Vedi? Sono un passo avanti. Non è vero, io sono davanti a te. Un passo avanti. Adesso ti attivo la trappola, sbandi. Non penso proprio a te. Trappola. Oh, mi sta tenendo testa. Non è arrivata prima io. Ferro, c'è più di un giro. Abbiamo sempre fatto il numero di giro. Non è arrivata prima, ho vinto. Guarda, ho le fiamme da quanto sto vincendo. E poi da me sono davanti io, eh. No, da me sono davanti io. Brutto imbroglione, guarda da me. Eh, vabbè. Adesso ti semino, guarda. Ora sono davanti. Sì, 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 sì. Di poco. Basta. No, io vinco. Ciao. Ciao Ferro, a dopo. Ciao. Ok, allora, teoricamente, io so. Odio le gare di auto. Che esistono altre auto. Quindi, vado un attimo a controllare. Secondo me Ferro, riesco a farti vedere qualcosa di figo. Uffa, Ferro, il veicolo che ti volevo far vedere purtroppo non è disponibile. In ogni caso, ti ho circondata con delle bandierine. Che stai facendo? Devi stare sopra l'auto. Ok. Ok. Ma voglio stare... E voglio fare una sorta di esperimento, una sorta che si può fare. Ok. Hai notato che quando prendevamo fuoco, comunque, la macchina non si distruggeva? Eh, sì. Ok. La mia domanda è... Secondo te, la macchina esplode e soprattutto tu prendi danno se io la circondo di TNT? Ah, ecco qua. Ecco qua. Aspetta, cos'era questa cosa? Ok. Allora. Così. Così. Perfetto. Stai divertendo, Steph. Molto, Fere. Ma perché non ci stai tu qui dentro? Perché lo sappiamo benissimo che quando... No, stai tu qui dentro, Steph. Che quando c'è da sperimentare, Fere è la più coraggiosa. Eh, devi sperimentare tu, io faccio esplodere, mi sembra giusto. Ah, tu sei più coraggiosa di Steph. Steph ha paura di fare queste cose. Basta! Così! Quanto ne vuoi mettere, Steph? Sto circondando tutta l'auto. Capisci? Vedi? Così. Eh? Nessuno sta ridendo qui, Steph. Sei pronta, Fere? Nessuno è divertito in questo momento, Steph. Hai un po' di paura? No, per niente. Vado? Vai. Sicura? Sì, muoviti almeno. È invincibile. Non ho perso neanche metà cuore, Steph. Aveva ragione, allora. Niente di niente. Aveva avuto il giusto feeling. Allora, stai sempre ferma. Ok. Oh, e non ti fa far danno manco a te. Cioè, la macchina io la vedo inondata. Sì, perché... Cioè, sotto il sedile io vedo lava. Lo è? Continua a non prendere danno, Steph. No? No, non sto prendendo danno. Guardami. Ma prima o poi esplode. Non lo so. Cioè, lo spero. Sarebbe assurdo. Io sto continuando a spammarne. Vedo i filini inondati di lava. Niente. Tra un po' c'è più lava che auto. Io sono qui a posto. La Lamborghini immortale. E vabbè. E vabbè, Ferecità. Almeno, oltre che essere un'auto, è anche giusto che ti protegga dalle fiamme, Steph. Con quello che costa. Ma mi sembra al minimo, dalle espressioni. Vorresti che la facesse nella realtà. Ma mi sembra al minimo. No, dovrebbe. Dovrebbe essere una macchina bionica per quello che costa, Steph. Vabbè. Vabbè. Veicoli diversi in modo da provare altre macchine e altre cose. Quindi fateci sapere se vi è piaciuto. E ci fermiamo così.